Allora quest'anno alla Spain Trophy del 2011 abbiamo il piacere di avere come ospite uno degli accompagnatori che fa le veci di accompagnatore del gruppo di Tol Falumiere di vicino Roma, il grande Franco Superchi, il portiere che tutti conosciamo, almeno quelli che hanno la mia età per lo meno, per lo meno lo conosciamo dalla storia che ha avuto e vorrei che il grande Superchi con due parole ma in poche parole che sono vecchio, è questo il guaglio, è la carta d'identità, nessuno la può nascondere, comunque avere un personaggio come Superchi, perché non chiedere al grande Franco le sue impressioni su questa manifestazione? Ma è una manifestazione che penso che faccia comoda a tutti i ragazzi e faccia piacere a tutti i ragazzi, noi per farle fare l'esperienza l'abbiamo portato qua e siamo molto contenti che i ragazzi hanno vissuto questa esperienza, non positiva perché purtroppo il risultato non conta. è un bene per i ragazzi, imparano a crescere i ragazzi, a maturare e penso che cominciano a capire qual è il gioco del caso. Benissimo, mi fa piacere ascoltare queste parole dove un'altra volta viene ribadito il fatto che il risultato sul campo è importante solo fino a un certo punto. Penso che sì, noi dobbiamo aiutare a crescere i ragazzi per bene, nel migliore modo possibile, a togliere dalla strada, da altre cose, diciamo che non sono queste, queste qui sono le cose che fanno bene alla società. Per cui complimenti al Tolfallumiere, complimenti a Superchi, complimenti al Presidente e a tutti coloro che si occupano di questi ragazzi. Grazie. Grazie. Grazie.